Buon pomeriggio, ha già fatto una stagione, ha già fatto un melone ha miscato con la frutta rinde, con la gelatina, un po' il fuoco, l'ha già sbagliato, ha aspettato. Ragazzi tutti hanno della frutta a pezzettino, ma questo qui vuoi fare delle patite. Ragazzi che sono quelle cefe, e veniva una cucchiarella che veniva a dare un po' i palunetti che si ricorda. Sono pronta a fare il melone a mellone, l'ha già la cucchiata, l'ha già sghiacciata, come si dice ragazze, scutuliale in italiano. Ragazzi siamo pronti signore e signore, siamo pronti, guardate qua nella frutta, ci metto il melone, tanto bello, così, lo giro sempre con le mani, perché le mani è meglio, mi fa stare là, ma ci aggiungiamo, e non c'è, è tutto male. Vedete? In più delle caramelle morbide per i nostri bambini. Guardate qua, vi faccio vedere. Questa è la tina di foglie di colla di pesce. Questa è la tina di pesce, per la verità, io sapete perché è verità, sta bella con i pesci, non so se c'è che pesce ci sta cattendo, con cavrati, con che spiegel, numero luce, non lo so. Vabbè, poi vi faccio vedere. Se aggiungiamo il zucchero, la gelatina di pesce è fatta, ora lo faccio vedere, tutto quanto è venuto, e poi vi farò vedere che squisitezza, è gelato, è gelato, che bellezza, aspettate. Signori, ragazzi è bella, femmine è bella. Lo svergognato è pronto. Ecco l'ho coprita, lascio un po' che lo giù, e la coppa si metto svergognata. Ecco, comunque questo qua deve andare nel frizzero quattro ore. Vi faccio vedere domani. Siete pronti tutti quanti? Io penso che hanno giocato proprio di niente. Caramba che sono presto. Io penso che ci sono riuscita, scopriamolo insieme. Maronna mia, mamma mia che brutta figura, che facciamo lo che ho detto. Ragazzi, non lo so veramente se è venuto. Io penso di sì, io penso di sì, ci sono mesi di riunione, bufà, state questa scuola, non ce l'ha qua sotto. Ragazzi ce l'ha già fatta? Io non sono con una pasticcera, ci sono riuscita, pure nel mio piccolo ce l'ho messa tutti. Aspettate. No maro, maro, non ci faccio pensare che è emozione, se ne ho finito un gol, vogliamo assaggiare insieme. Mamma mia. E come è bello? Che buono poco. È troppo bene. Una sera!